Sviluppare l'attività attraverso progetti e piani industriali, il futuro, anzi il presente delle microimprese, passa attraverso i servizi che le accompagnino ad affrontare mercati esteri, digitalizzazione, nuove tecnologie e nuove normative. Un confronto serrato a quello della quarta edizione del Salone delle Microimprese che si è tenuto a mestri 500 iscritti. Del nuovo che avanza e che faciliterà sicuramente le micro e le piccole imprese perché gli investimenti sono molto bassi e i risultati sono molto alti, andando a semplificare sempre di più l'impresa. Gli aiutiamo ad individuarlo, a proteggerlo secondo gli strumenti che sono offerti dall'ordinamento, quindi brevetti, marchi, diritto d'autore o comunque segreto industriale, valorizzarlo perché ricordiamoci che anche in un'ottica di eventuali investitori che entrano nel capitale sociale della PMI questi aspetti sono essenziali per dare valore all'impresa e poi anche tutelarli tramite la contrattualistica sia nazionale che internazionale. Le micro imprese hanno soprattutto un'esigenza di credito, quindi lo strumento principale per le piccole imprese che offre il Ministero è il fondo di garanzia, ovvero la possibilità di essere garantiti nel credito bancario dal fondo del sistema nazionale e questo consente a tutte le micro imprese di accedere, poi specificamente a livello settoriale o anche a livello di genere, di poter accedere a questo fondo di garanzia in maniera anche semplice e relativamente veloce. Grazie